Il Comune di Pesaro si aggiudica un bando ministeriale per realizzare un nuovo asilo nido. Vedrà la luce nel 2026 e rappresenterà una boccata d'ossigeno per i genitori pesaresi di domani che beneficeranno di altri 90 posti nei nidi d'infanzia volti a snellire le future liste d'attesa di questo servizio per famiglie. Una novità che è stata annunciata in Consiglio Comunale a pochi giorni da un quadro per il 2024-2025 delineato dall'assessore alle politiche educative Camilla Murgia che attualmente si trova a gestire una lista da 120 famiglie escluse dall'attuale disponibilità nei nidi comunali. Il nuovo asilo sarà realizzato grazie all'aggiudicazione di un bando del Ministero dell'Istruzione con oltre 2 milioni di euro di fondi PNRR come annunciato dall'assessore alle nuove opere Riccardo Pozzi che ha informato il Consiglio Comunale dell'annessa variazione di bilancio a giornata d'urgenza in giunta. È stato quindi necessario intraprendere il percorso di riportare questo contributo di 2 milioni 160 mila euro nel bilancio del Comune di Pesaro per poter avviare da subito il percorso di realizzazione di un nuovo nido. Un impegno ulteriore del Comune che dallo scorso anno ha aumentato la capienza di 30 posti nei nidi e che vede procedere a buon ritmo anche la costruzione del polo di infanzia 0,6 anni di Soria. I tempi sono strettissimi nonostante come Servizio di Opere Pubbliche abbiamo dimostrato di essere in grado di rispettare tutte le scadenze e le tempistiche PNRR. Il 31 ottobre si è prevista la scadenza per l'aggiudicazione dei lavori e quindi l'avvio dei lavori entro l'anno per concludere il cantiere entro il 30 giugno 2026.